è finita 1 a 0 accidenti non tanto per il risultato che ovviamente tra qualche settimana potrà essere ribaltato al Bayern Monaco quanto per quello che abbiamo visto fare dalla Lazio e dal Bayern Monaco complimenti di tutto prima di tutto complimenti alla Lazio complimenti per essere riuscita ad ottenere un risultato che è sempre difficile e che è sempre bello e che è sempre prestigioso. Ovviamente il fatto di aver incrociato il Bayern più in difficoltà di tutta la stagione è stata una fortuna insomma ma sappiamo, l'ha detto anche il nostro allenatore Pioli oggi l'ha detto in conferenza stampa, le coppe europee dipende anche come ci arrivi in quel momento e effettivamente questa sera abbiamo visto come la Lazio sia arrivata meglio rispetto al Bayern Monaco più attenta in fase difensiva, mi verrebbe da dire quasi più organizzata da un punto di vista proprio di stare in campo in un certo modo e quel certo modo ha funzionato ha funzionato perché ha limitato molto gli attacchi del Bayern ovviamente è un Bayern Monaco diverso quando ci sono Gnabry, quando c'è Coman perché sono giocatori che ti danno più soluzioni in velocità rispetto a Musiala che ha giocato una buona partita ma che è un giocatore di tecnica, di dribbling, di spazio e spazio questa sera ce n'è stato poco, è uno dei grandi punti di merito della Lazio questa sera è stato proprio lo spazio, l'aver ridotto completamente il campo al Bayern avergli lasciato le fasce senza andare troppo a chiudere anche sui movimenti dei due esterni perché Mazraoui e Guerrero spesso i volentieri salivano, spesso i volentieri davano supporto alla fase offensiva ma questo non ha generato di fatto scompensi se noi guardiamo la partita e facciamo caso a come la Lazio abbia appreso subito la Lazio è sembrata Nio all'inizio della partita avete presente quando gli mettono lo spinotto? Allora lui si programma perché? Perché c'era stata quell'azione dove Sané si era trovato completamente libero a destra con Isai fuori posizione, con una Lazio messa male difensivamente e poi invece la fortuna di aver trovato Kimmich che di destro ha messo fuori Kimmich giocatore discusso in Germania il mistero su perché un giocatore come Joshua Kimmich possa essere discusso lo sa solo eventualmente Thomas Tuchel che nella sua testa ha delle cose che forse è meglio nemmeno sapere ma c'è ovviamente un Bayern con Kimmich e uno senza Kimmich ma c'è anche un Bayern con una proposta offensiva e un Bayern senza una proposta offensiva un tiro in porta in due partite oggi zero tiro in porta, eh? Zero zero, quello che si fa col bicchiere col Bayern Leverkusen un tiro in porta e basta ed è chiaro che insomma tra il risultato della parita di sabato e il risultato della parita di questa sera il Bayern entra ufficialmente in crisi un campionato che ripeto siccome gioca col Bayern Leverkusen ma non perché voglia male il Bayern Leverkusen ma perché statisticamente è una squadra capace di perdere il titolo l'ultima giornata il campionato probabilmente non è chiuso sappiamo quanto il Bayern abbia dimostrato anche lo scorso anno quando vinse il torneo all'ultima partita di fatto proprio con Musiala protagonista sappiamo come sia una squadra capace a un certo punto di mettere in fila tutta una serie di vittorie che mettono pressione sulle altre il discorso qualificazione è un discorso tutt'altro che chiuso perché al ritorno il Bayern potrebbe aver ritrovato quello spunto offensivo che è mancato nelle ultime partite quello che manca però il Bayern in questo momento secondo me è la tranquillità tranquillità che invece la Lazio questa sera ha trovato perché la Lazio ha fatto bene tutte le cose si è anche mangiata qualche contropiede che avrebbe potuto gestire meglio vediamo nel frattempo se la gazzetta dello sport celebra giustamente la Lazio ecco qui l'impresa Lazio col Bayern con un rigore di immobile i quarti non sono un miraggio non sono un miraggio prima di parlare dei quarti di finale ci vuole davvero l'impresa Monaco dicevo la tranquillità della Lazio è questo che ha colpito particolarmente questa sera una squadra capace di stare bene in campo molto bene in campo capace di creare delle situazioni anche per rendersi più pericolosa rispetto a quello che il Bayern si è reso in tutta la partita perché ad eccezione di chimiche di qualche pallone in area così qualche crossetto eccetera qualche colpo di testa e beh ti rimporta ripeto zero questa sera e far fare zero ti rimporta al Bayern per quanto la squadra di Tucker possa essere in difficoltà resta un dato estremamente importante che certifica la bontà della partita della Lazio una Lazio che ha trovato una serata così colà di Felipe Anderson ma ha trovato alcune illuminazioni da parte di Luis Alberto che ha trovato un Isaac Sen ispirato e non è un caso che Sarri lo metta diciamo sempre più frequentemente in campo un po' anche per ragioni diciamo di necessità avendo qualche infortunio ma sappiamo insomma che Sarri non è proprio uno che si affida alle seconde linee quindi quando ti fa giocare ti fa giocare perché si fida insomma del tuo momento della tua situazione del tuo percorso di mentalizzazione all'interno della squadra e Isaac Sen ha risposto nelle ultime partite della Lazio dopodiché aveva preferito Vessino che è rimasto fuori prima della partita poco prima della partita il riscaldamento si è fatto male l'impiego di Cataldi ha comunque dato quella solidità centrale anche perché in quella zona di campo poi anche qui assegnare a Thomas Müller una zona di campo è un esercizio quasi impossibile Thomas Müller è ancora uno dei migliori giocatori del Bayern Monaco nonostante abbia credo 57 anni non so quanti anni abbia Thomas Müller ma io me lo ricordo a Sudafrica 2010 adesso Thomas Müller avrà almeno la mia età vediamo un po' quanti anni ha ho 34 anni ho 34 anni i grandi misteri questi del calcio scherzi a parte resta comunque uno dei migliori giocatori del Bayern resta soprattutto un giocatore che si muove questa sera si è mosso molto a destra dove il Bayern aveva individuato una zona di potenziale pericolo da creare proprio dopo la prima azione dopo quella prima azione dopo un minuto hanno detto aspetta che andiamo da quella parte invece pian piano la Lazio si è ricomposta la Lazio ha mosso bene la squadra in quella direzione infatti non è una cosa rara questa sera aver visto proprio il blocco della Lazio muoversi seguendo la palla ma facendolo veramente in maniera molto organizzata e questo ha tolto respiro al Bayern ha tolto soluzioni offensive ad una squadra che ha mostrato le sue difficoltà perché il Bayern Monaco ha comunque giocatori che là davanti possono da soli creare quello spazio che serve per poter fare male mi riferisco ovviamente a Musiala mi riferisco ovviamente a Sané mi riferisco allo stesso Müller mi riferisco alla profondità e alla tecnica di Harry Kane tutte cose che questa sera sono un po' evaporate di fronte ad una Lazio concreta e seria ora ripeto da qui a dire che la Lazio sia favorita per il passaggio del turno no perché dipenderà da come il Bayern si sistemerà nelle prossime settimane se e può succedere il Bayern dovesse essere ancora in questo tunnel Novery e poi c'ha Tucker in panchina quindi infilarsi in certi tunnel è molto facile uscirne è più complicato e beh allora a quel punto si potrebbe presentare anche la circostanza nella quale riuscendo a fare una partita seria organizzata come quella di questa sera riesce a togliere le fonti riesce a togliere le pericolosità e ripeto portare il Bayern a farti zero ti rimporta è un dato statistico veramente veramente rilevante quindi complimenti alla Lazio vedremo cosa accadrà insomma tra qualche settimana ma intanto resta la soddisfazione per una vittoria che fa anche credo punti ranking che sono utili per la quinta squadra italiana alla prossima Champions che è una roba banale quindi anche in questo caso insomma complimenti a Sarri e ai suoi ragazzi buonanotte